Il Presidente si difende, situazione ereditata dalle gestioni passate. Trovata la soluzione per le associazioni del 118, pronto un nuovo bando per le postazioni del servizio di emergenza. Rientra la protesta, ma i sindaci denunciano la preoccupazione per una sanità che non funziona. Botte ad un disabile per soldi, arrestato la Guzzino, dopo aver a lungo subito schiaffi e minacce, il ragazzo ha trovato il coraggio di denunciare ai carabinieri le violenze subite. L'uomo arrestato è portato in carcere. Temporio solidale inaugurato a Campobasso, oggi l'apertura alla Casa degli Angeli, spesa gratis per le famiglie in difficoltà, lo spazio messo a disposizione dal Comune. Eccellenze promozione, ultima gara dell'anno in campo nel fine settimana, prima della sosta natalizia, i campionati regionali ripartono il 7 gennaio. In serie D, ancora 180 minuti da giocare. Buongiorno dalla redazione di Telemolise. Più che Natale, per i conti regionali sembra sia già arrivata la Befana a portare nella calza i carboni al governatore Toma. Ci ha infatti pensato, con un anticipo sul calendario, la Corte dei Conti, che per la prima volta non ha concesso la parifica di bilancio sul rendiconto generale della Regione, rimandando il suo pronunciamento al giudizio preventivo della Corte Costituzionale, chiamata a verificare la conformità alla carta principale delle leggi di approvazione del bilancio regionale e del rendiconto stesso, così come chiesto dal procuratore regionale della locale magistratura contabile Salvatore Nicolella. Sul tema, le opposizioni il giorno dopo incalzano e parlano di fallimento certificato del governo Toma e l'equivalente dei libri in tribunale, dice Michela Fanelli. Una bocciatura sonora mai data prima alla Regione Molise. E questo è un fatto gravissimo, che avviene dopo quattro anni e mezzo ormai di mandato di Donato Toma, che ancora nel tentativo di difesa cerca di addebitare, è il caso di dirlo, alle amministrazioni precedenti i suoi fallimenti. Dopo quattro anni e mezzo una politica di bilancio non dovrebbe essere quella che consegna i libri in tribunale come un'azienda fallita, dovrebbe essere una Regione che riesce a riprogrammare i propri conti per dare una prospettiva. In Molise non abbiamo speranza, non abbiamo prospettiva con questo governo di centrodestra. Un esempio, in modo che risulti particolarmente chiaro, Ogni molisano ha sul suo groppone, sulle sue spalle, un debito di 1.600 euro circa. Questo è il Molise, queste sono le altre Regioni per indebitamento. Siamo purtroppo, incredibilmente, malamente primi per debito. Analogo giudizio di bocciatura netta e fallimento è quello che arriva dal Movimento 5 Stelle. E hanno rimesso tutto alla Corte Costituzionale. Questo certifica il fallimento del centrodestra in Molise, certifica il fallimento gestionale di questa Regione, che è ancora più grave. Altri argomenti che sono venuti fuori, insomma, ieri, durante una requisitoria, devo dire, realmente pesante della Corte dei Conti, sono la cattiva gestione di tutti i comparti maggiori. Quindi, io dico, dopo queste considerazioni, davvero c'è poco spazio per l'interpretazione. Questa politica di centrodestra ha fallito nella gestione, punto. Dal canto suo Tom appare sereno e con le idee chiare, il disastro dice, lo abbiamo ereditato dalle precedenti amministrazioni regionali. Noi siamo arrivati ad un punto, ma come io già avevo anticipato negli anni passati, che le risorse che questa amministrazione ha creato, noi diciamo tecnicamente in avanzo gestionale, circa 200 milioni di euro, sono stati assorbiti per ammortizzare l'eliminazione di crediti progressi, che non erano riscuotibili e oltre 63 milioni di debiti fuori bilancio che ci siamo visti cadere sulle spalle, perché non conoscevamo l'esistenza prima di assumere il mandato. Emilio Izzo e Nicola Lanza hanno aperto una raccolta di firme a sostegno della candidatura del giornalista Domenico Iannacone alla presidenza della Regione Molise. I rappresentanti dei movimenti Cacciamoli e Azione Civile hanno invitato i cittadini a sposare il progetto. Una candidatura hanno detto da mettere a disposizione di un disegno economico di comunità in vista delle prossime elezioni regionali del prossimo anno. Adesso parliamo di sanità, della questione del 118. Ricorderete che le associazioni avevano annunciato la sospensione della loro attività a partire da domani. Dopo un incontro tenuto ieri sera a Palazzo Vitale, c'è una schiarita all'orizzonte. Sentiamo Giovanni Di Tota. Le richieste portate al tavolo dagli operatori del 118 sono state quasi tutte accolte. La più importante, quella di un'immediata pubblicazione del bando per le postazioni, potrebbe essere già evasa lunedì prossimo. Peraltro, come annunciato dal presidente Toma e dal direttore generale dell'ASREM, Florenzano, il capitolato è già pronto e prevede condizioni migliorative. L'incontro ha dunque al momento evitato lo scenario peggiore, il blocco del servizio di emergenza del 118 che le associazioni avevano prospettato nei giorni scorsi. Il commissario ha anche manifestato l'intenzione di aprire un tavolo permanente di confronto con le associazioni di volontariato in modo da poter seguire l'evoluzione della vertenza sanità. Le associazioni hanno accettato questa linea e la protesta è al momento rientrata. Anche se resta aperto il tema relativo ai turni effettuati dai volontari che superano spesso quelli previsti tanto da incorrere nei provvedimenti dell'ispettorato del lavoro secondo cui gli orari di lavoro sostenuti dagli operatori prefigurano l'inquadramento di dipendente. Un tema questo sul quale la regione si è riservata ogni decisione ma dall'incontro di via Genova è comunque arrivato il risultato più importante aver evitato il blocco del servizio di emergenza sul territorio. Il che tuttavia non sgombera il terreno dalle incertezze dalle preoccupazioni come ha fatto notare il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente parlando per conto delle autonomie locali secondo il quale i cittadini vivono con profonda apprezzione la situazione relativa alla sanità molisana. I sindaci, ha concluso Valente, si fanno portavoce delle inquietudini che ogni giorno sono costretti a riscontrare nelle loro comunità. E parliamo ancora di sanità perché arriva dall'Aiop l'associazione che riunisce gli operatori della sanità privata una replica alle affermazioni fatte dal presidente commissario Toma in occasione della conferenza stampa dello scorso 9 dicembre nei confronti dei privati affermazioni infondate che ledono il diritto alla salute e alla scelta del luogo di cura dicono dall'associazione. Vediamo. Oltre ai classici puntini sulle I, l'Aiop, l'associazione che riunisce gli operatori della sanità privata, questa volta ci mette anche le stanghe. A qualche giorno di distanza dalla conferenza stampa del commissario ad Acta Toma arriva dall'associazione una replica secca e puntigliosa alle affermazioni del presidente della regione sui privati accreditati. La prima osservazione dell'Aiop è di carattere generale e afferisce al ruolo stesso del commissario che, secondo l'Aiop, non avrebbe motivo di esistere qualora si desse seguito alle parole dello stesso Toma che indossa i vestiti di un mero esecutore di decisioni assunte dai tavoli tecnici ministeriali. Se non avesse poteri, dicono dall'Aiop, la normativa che ne regola le attribuzioni sarebbe quantomeno illegittima. Toma lamenta l'assenza di accordi di confine, scrive sempre l'Aiop, che però ricorda al commissario come tocchi proprio a lui sottoscriverli. Giudicate poi infondate le dichiarazioni del commissario sull'annullamento da parte del TAR del decreto, che definisce i livelli di budget e blocca i pagamenti. Anche su questo versante l'Aiop leva gli scudi. Toma afferma che le prestazioni urgenti sarebbero fatte salve dal suo decreto, dice l'associazione, ma questo non corrisponde al vero. tali prestazioni non sono state espressamente riportate nel documento di Toma. Sui ricoveri fuori regione, sempre il commissario afferma, dice l'Aiop, che la campagna può legittimamente rifiutare il ricovero di pazienti molisani. Ci chiediamo allora perché, dice l'associazione, nel POS sia previsto, tra le altre cose, il ricovero di pazienti molisani a Cardarelli di Napoli. Ultimo, ma non meno importante, le presunte irregolarità paventate da Toma rispetto ai rimborsi delle prestazioni di radioterapia effettuate al Gemelli. Ci saremmo aspettati da Toma, conclude l'Aiop, un diverso approccio istituzionale osservante del principio del contraddittorio. Cambiamo argomento espresso. Piena condivisione. Il presidente della Camera Penale di Seria, Francesco Lacava, sulle linee guida in materia di giustizia presentate dal ministro Nordio in Parlamento. Lacava ha auspicato una riforma sostanziale del sistema giudiziario che punti sulla divisione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e sulle garanzie relative alla divulgazione delle intercettazioni. I paradossi più laceranti a oggi, ha detto l'Avvocato, sono la facilità di ingresso in carcere prima del processo e la facilità di uscita dopo la condanna da colpevoli conclamati. Pertanto, ha concluso Lacava, la custodia cautelare non può essere nelle mani di un giudice singolo. Siamo alla pagina della cronaca a Campobasso. In provincia di Campobasso una brutta storia, quella di un ragazzo disabile per lungo tempo picchiato e minacciato da un uomo che per chiedere soldi gli estorceva appunto denaro con la violenza. Alla fine il giovane ha trovato il coraggio di denunciare tutto. Il suo guzzino è stato arrestato. Il servizio è di Tonino Danese. Disabile e indifeso, vittima della violenta prepotenza di un suo compaesano. Nonostante le difficoltà intellettive, il ragazzo, giunto ormai all'esasperazione, si è rivolto ai carabinieri e ha raccontato tutto quello che era ormai costretto a subire. Le indagini sono scattate immediate e gli stessi carabinieri del paese della provincia di Campobasso hanno riscontrato alcuni episodi in cui l'aggressore è riuscito a entrare nella casa del giovane perfino entrando da una finestra con una scala recuperata per l'occasione. La vittima, dal canto suo, non riusciva più a difendersi da quello che era diventato uno strozzino. Soldi, in caso contrario, schiaffi e botte, strattonamenti e perfino minacce di morte nei confronti di quel disabile inerme e impossibilitato a difendersi a tal punto che il ragazzo del quale sono state omesse le generalità per garantirgli protezione ha dovuto fin anche lasciare la propria casa diventata ormai meta fissa dell'aguzzino. Alla fine, il giovane disabile ha trovato prima la forza di raccontare ciò che gli accadeva e poi di denunciarlo ai carabinieri. Su richiesta del capo della procura di Campobasso, Nicola D'Angelo, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'arresto e la custodia in carcere per l'uomo che ha già sulle spalle un procedimento penale per reati dello stesso tipo e da poco è tornato in libertà. Deve rispondere di estorsione aggravata, violazione di domicilio, violenza privata e lesioni. È rinchiuso nel carcere di Via Cavour e per ora non potrà più nuocere al malcapitato ragazzo. E c'è anche un nigeriano di 41 anni che vive a Campomarino tra i sette connazionali arrestati nell'ambito di un'operazione della squadra mobile di Lodi contro la prostituzione. La Digos di Campobasso aveva raccolto due testimonianze prima di entrare in azione e smantellare insieme ai colleghi Lombardi e di Torino una vasta rete della criminalità. Tutti risponderanno a vario titolo di tratta di persone, riduzioni in schiavitù, estorsione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Le vittime, ragazze nigeriane, venivano reclutate dalla Libia prelevate dai centri di accoglienza in Italia. Venivano sottomesse con riti vudù e stupri ed erano obbligate a dare ai propri aguzzini tutti i soldi guadagnati. Vivevano nel milanese, erano controllate da un'altra donna. Cambiamo argomento, bisogna continuare a essere vigili per contrastare le infiltrazioni mafiose in Molise. Lo ha detto l'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che questa mattina è stato in visita ad Agnone. Sentiamo Enrico De Simone. Intervenire massicciamente per prevenire l'infiltrazione di altre attività mafiose in Molise. È questa la richiesta dell'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che questa mattina ha visitato la fonderia delle campane Marinelli di Agnone. Grazie ai dati raccolti negli ultimi cinque anni alla guida del collegio parlamentare, l'ex senatore Pentastellato ha fatto il punto sulle criticità molisane. Il Molise è una regione che si trova confinante con regioni in cui organizzazioni criminali di stampo mafioso hanno fatto gravissimi danni. Penso alla provincia di Foggia, penso alla provincia di Caserta, penso al Basso Lazio. Già questo dovrebbe di per sé rappresentare un motivo di allerta. In più voglio anche dire che le mafie hanno investito massicciamente in settori quali il ciclo dei rifiuti oppure l'infiltrazione nell'ambito della sanità e questo fa sì che anche il Molise, per ovvi motivi che voi tutti conoscete, debba essere particolarmente attenzionato. Poi però certamente bisognerebbe impedire che si arrivi sempre e soltanto in forma di repressione perché quando si opera repressivamente si opera dopo che il delitto è stato già consumato. Voi ci avreste la possibilità di prevenire e forse sarebbe il caso di ipotizzare un intervento massiccio nell'ambito della prevenzione. Accompagnato dalla famiglia Marinelli e dal sindaco Daniele Saia, Morra ha scoperto l'antica arte millenaria che si nasconde dietro la realizzazione delle campane. Patrimonio culturale da tutelare, da qui l'appello alle istituzioni, affinché i giovani possano investire sulle tradizioni della loro terra senza abbandonarla. La rappresentazione di un'Italia che aveva ed ha raggiunto livelli di eccellenza produttivi indiscutibili, ma che sta perdendo purtroppo tanti tanti giovani che potrebbero conservare queste abilità lavorative perché noi non investiamo più su noi stessi, noi stiamo permettendo che il capitale umano, che poi è il capitale più importante nella produzione, venga abbandonato. Continue interruzioni nella fornitura di corrente elettrica a Bagnoli del Trigno. Da una settimana i cittadini sono costretti a convivere con improvvisi blackout che causano danni agli elettrodomestici e provocano disagio ai gestori delle attività. Chiediamo un immediato intervento risolutivo da parte dell'Enel, hanno detto i cittadini. A Campobasso, invece, lampioni accesi a intermittenza nella zona di via Crispi e gli incroci di via Fosse Ardiatini il 25 aprile. Lo segnalano alcuni residenti che dopo essersi rivolti in mano all'amministrazione hanno interessato del problema la nostra redazione. Molise è unica regione con il segno meno alla voce export. Lo rivelano i dati Istat per i primi nove mesi dell'anno. Intanto, l'aumento dei tassi degli interessi delle banche si ripercuote sul reddito delle famiglie e anche sulle aziende. Vediamo. L'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea in questa seconda parte dell'anno a cui dovremo sicuramente aggiungere il nuovo incremento che verrà introdotto il prossimo 15 dicembre comporterà tra il 2022 e il 2023 un aggravio degli oneri sui prestiti alle imprese italiane di circa 15 miliardi di euro. A segnalarlo è l'ufficio studi della Cassa degli Artigiani di Mestre secondo cui questa stima è stata costruita ipotizzando un aumento medio dei tassi di interesse del 2% tra il 2022 e il 2023. Le stime per il prossimo anno effettuate dalla CGA indicano maggiori costi per interessi pari a 29 milioni di euro. A livello provinciale a Campobasso si valuta un aumento di 19,6 milioni di euro mentre a Isernia l'aumento è stimato in quasi 9 milioni e mezzo. Gli aumenti dei tassi di interesse osserva l'Associazione degli Artigiani di Mestre avranno anche ricadute negative sulla spesa delle famiglie sugli investimenti delle imprese e sul costo del debito pubblico. Altro dato negativo riguarda l'export. Nei nove mesi tutte le regioni italiane registrano incrementi delle esportazioni a eccezione del Molise meno 12,9%. Lo confermano i dati pubblicati dall'Istat l'Istituto Nazionale di Statistica riferiti alla crescita su base annua dell'export nei primi nove mesi dell'anno. Tra le cause della flessione è ipotizzabile soprattutto la contrazione dell'export nel settore auto. Con un disegno dedicato alla denatalità la studentessa del liceo scientifico Alfano di Termoli Lidia Fortunato si è classificata al primo posto per il Molise del 35esimo premio internazionale Alessio Solinas concorso europeo sulla denatalità e la decrescita demografica. Ha partecipato di diritto tra i 12 studenti italiani selezionati a Palermo in Sicilia al convegno del Movimento per la Vita con il titolo Trasformare l'inverno in primavera. Corecom Consiglio regionale Comuni e scuole sono questi soggetti coinvolti nel progetto patentino digitale indirizzato alle giovani generazioni per un uso consapevole della rete e dei social network Vediamo Un uso consapevole della rete e dei social network è questo l'obiettivo del progetto patentino digitale promosso dal Corecom in collaborazione col Consiglio regionale e l'Agicom un percorso di formazione destinato alle giovani generazioni sia per quanto riguarda i mezzi di comunicazione tradizionali sia per i nuovi media un itinerario didattico destinato alle scuole e mirato a condividere competenze digitali giuridiche psicologiche comunicative e comportamentali necessarie a navigare in rete attraverso i social network Partner del progetto sono 5 comuni un percorso che parte da Baranello il 13 dicembre e prosegue l'11 gennaio prossimo a Larino il 12 a Riccia il 18 a Campo di Pietra e chiude il 19 gennaio a Ferrazzano ad illustrare l'iniziativa il presidente del Corecom Fabio Talucci un progetto pilota di un percorso sperimentale più grande per un uso consapevole della rete del web degli strumenti che adoperano la rete a chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo alla fascia di utenti più bella che possa esistere la fascia degli adolescenti che sono in crescita e quindi a nostro avviso hanno bisogno di queste iniziative per un uso più attento all'utilizzo della rete come intendiamo farlo? intendiamo farlo per la prima volta il Corecom entrerà nelle scuole abbiamo fatto un avviso pubblico i comuni che hanno risposto ad oggi ne sono stati 5 ma poi l'attenzione si è alzata e l'anno prossimo abbiamo tanti comuni che vogliono partecipare entreremo nelle scuole i dirigenti scolastici sono stati molto contenti che portiamo l'istituzione all'interno di questo percorso e cerchiamo di farlo con attenzione perché dobbiamo rivolgersi a questi ragazzi in maniera molto semplice ma avveduta dai promotori è stato sottolineato in particolare come l'uso consapevole della rete e dei social aiuti ad evitare nelle giovani generazioni possibili devianze dovute a un uso improprio dei mezzi stessi le nostre 5 giornate formative inizieranno con la proiezione di un cortometraggio cortometraggio diffuso e progettato e preparato dalla fondazione toscana in collaborazione con il ministero degli interni e con il ministero dell'istituzione questo cortometraggio molto significativo aprirà il convegno e i ragazzi si accorgeranno effettivamente di quali possono essere le insidie che si nascondono dietro chi è dall'altra parte mentre loro chattano stamattina a Campobasso è stato inaugurato l'emporio solidale alla casa degli angeli un'iniziativa per aiutare le famiglie in difficoltà che potranno fare così la spesa gratuitamente vediamo un concreto sostegno a chi ha più bisogno alle famiglie che non riescono a mettere ogni giorno un piatto caldo in tavola nasce a Campobasso alla casa degli angeli l'emporio solidale che porta il nome di Antonietta Magliocco storica collaboratrice della Caritas diocesana di Campobasso Boiano un sogno che si realizza dopo anni nel segno della solidarietà e dell'aiuto ha detto il direttore della Caritas Don Franco Donofrio che ha tagliato il nastro all'inaugurazione con il sindaco Roberto Gravina il comune ha collaborato economicamente creando la rete Conad Adriatico ha curato l'allestimento e riempito gli spazi con i prodotti le persone si rivolgono ai vari servizi sia del comune che delle parrocchie della Caritas diocesana viene fatto un ascolto al centro di ascolto diocesano si prepara una scheda e in base a un c'è proprio un algoritmo matematico che tiene presente il territorio l'ISEE il numero di persone della famiglia se vi sono bambini viene consegnata poi una scheda una scheda che ha dei punti questi punti corrispondono al prezzo di tutto ciò che c'è nell'emporio e una mamma e il papà viene a fare la spesa come se andasse normalmente in qualsiasi altro negozio alziché utilizzare il contante o la scheda con i soldi usa i punti che vengono scalati un emporio nel quale è garantito l'anonimato delle persone che possono avere gratuitamente i prodotti in base ai criteri spiegati persone alle quali e l'obiettivo dovrà essere dato un sostegno dall'istituzione un sostegno di carattere sociale creare la giusta comunicazione anche con i nostri servizi alla persona all'assistente sociale che può calibrare poi individuare e calibrare al meglio quelli che possono essere gli aiuti questa è un'occasione che con grande dignità diamo alle persone che hanno più bisogno di venire qui avere l'obiettivo di arrivare ad una sostenibilità economica e sociale significa aiutare gli ultimi aiutare le persone fragili e vulnerabili in un modo dignitoso e l'Emporio Solidare secondo noi offre veramente tutto questo sarà aperto tutti i giorni non tutti i giorni perché comunque per non fare sì che ci sia la calca cerchiamo di fare il suo appuntamento con le persone che hanno la tessera e con i volontari che aprono l'Emporio ad hoc per servire meglio la famiglia e da sabato prossimo fino al 31 dicembre a Campobasso trasporto pubblico gratuito su tutta la rete urbana chiunque potrà prendere l'autobus senza dover pagare il biglietto l'iniziativa è stata messa in campo dal comune e dalla SEAC i dettagli sono stati presentati stamattina in conferenza stampa a Palazzo San Giorgio dall'assessore alla mobilità Simone Cretella dal sindaco Roberto Gravina dal presidente della commissione consigliare mobilità Valter Andreola predisposte anche apposite aree di parcheggio gratuite l'iniziativa è stato spiegato anche per decongestionare il traffico sostenere l'ambiente e invitare le persone a vivere la città sempre a Campobasso è stata presentata la biennale dell'incisione italiana contemporanea Domenico Faradiani che aprirà i battenti sabato prossimo a Palazzo Ex Gil 58 gli artisti che esporranno le loro opere tra loro anche sette giovani incisori individuati nelle diverse accademie delle belle arti nazionali la mostra sarà poi aperta fino al 26 febbraio sentiamo Anna Maria Di Matteo l'artista molisano domenico frati anni scomparso tre anni fa ha lasciato una eredità artistica importante che continua a vivere nelle sue opere nella biennale dell'incisione italiana contemporanea di Campobasso che è gli stesso fondo alla fine degli anni 90 un patrimonio che figli Annalisa e Gerardo continuano a valorizzare veicolare facendo della biennale punto di riferimento artistico del panorama nazionale e che aprirà i battenti sabato 17 dicembre nel palazzo Gil del capoluogo sarà visitabile fino al 26 febbraio ieri pomeriggio la conferenza stampa di presentazione da quest'anno la biennale è proprio intitolata papà domenico frati anni torniamo alla formula originale quella proprio voluta da domenico perché quest'anno ci sarà una mostra con 116 opere in esposizione di 58 artisti italiani ovviamente incisori selezionati dalla nostra commissione scientifica quindi sicuramente una mostra molto ricca che ovviamente mira a promuovere il linguaggio dell'incisione però non basta abbiamo anche una mostra nella mostra cioè l'omaggio a Carlo Carrà che sappiamo tutti è uno dei massimi rappresentanti dell'arte del primo novecento che ha attraversato varie correnti letterarie e artistiche soprattutto e con tutto il corpus incisorio di Carlo Carrà probabilmente Carrà è conosciuto più come pittore noi lo portiamo qui come incisore sarà una mostra veramente ricca ci auguriamo godibile da parte di tutti che mira proprio ad avvicinare un pubblico il più possibile variegato al linguaggio dell'incisione e per fare questo abbiamo immaginato non solo Carrà a fianco ai giovani artisti ma anche una serie di eventi che ci saranno a cadenza regolare per tutto il periodo della mostra dal 17 il giorno dell'inaugurazione al 26 febbraio 2023 queste sono le occasioni che io ho per ringraziare Fondazione Museo e Cultura e per ringraziare ancora di più il maestro Frati Anni che ci ha lasciato in eredità se non ricordo male 111 incisioni in questa occasione i figlioli del maestro Frati Anni hanno organizzato la mostra in maniera tale da portare sul territorio anche altre incisioni di pittori incisori di fama internazionale e il maestro Frati Anni aveva visto giusto aveva visto lungo e noi stiamo continuando quella sua intuizione l'associazione Italia E ha premiato a termoli le eccellenze di casa nostra riconoscimenti per numerosi ristoratori aziende e strutture ricettive del territorio a Mariano Flocco direttore dell'ospice di Larino è andato invece un premio speciale il servizio è di Andrea Nasillo eccellenze di casa nostra un premio prestigioso che l'associazione Italia E assegna a chi si distingue nel mondo della ristorazione della ricettività dell'artigianato ma non solo in sala consigliere a Termoli un tributo al Made in Molise alle capacità della gente di questa terra che si sa mettere in gioco e si fa apprezzare anche oltre i confini regionali il premio è nato proprio per gratificare le aziende che lavorano incessantemente per offrire un prodotto di qualità e servizi di qualità alla clientela inoltre ogni anno noi conferiamo dei premi speciali e anche quest'anno saranno conferiti due premi speciali a personalità che si sono contraddistinte nel loro settore è da ricordare che il premio eccellenze di casa nostra è patrocinato dalla regione Molise dalla provincia di Campobasso e dal comune di Termoni nonché dall'associazione editori abruzzesi questa simpatica manifestazione che serve a pubblicizzare le eccellenze del nostro Molise quindi portare anche con l'aiuto vostro quindi dei media all'attenzione di tutti che anche il Molise esiste e ha le sue eccellenze l'iniziativa fortemente voluta da Elena e Pino Costa dell'associazione Italia E si è arricchita di due premi speciali ad Artiebano Febo medico specializzato in sessuologia psicoterapeuta e nutrizionista e a Mariano Flocco direttore dell'Hospice di Larino una struttura in cui lavorano angeli che accarezzano l'anima prima ancora di curare il corpo e che si occupano soprattutto di terapia del dolore parlare di sanità in un contesto dove si è parlato di altro si è parlato prevalentemente di cucina o comunque di premi dati alle eccellenze locali parlare anche di medicina sicuramente è un valore aggiunto secondo me perché si parla di una problematica sempre presente nella nostra società più moderna e più all'avanguardia si parla di cure si dice di fine vita ma in realtà è un discorso molto ampio si parla di cure in una fase avanzata delle malattie in realtà in cui più precocemente si interviene più risultati si hanno si svolgerà questa sera dalle 20 e 15 il festival del folklore del Molise l'evento al teatro Savoia con ingresso gratuito cinque gruppi che prenderanno parte Toma Toma Zig Zaghini Figli di Lauro Le Due Torri di Miranda e Zompa Cardillo da Avellino ospiti saranno Patrizia Civera e René Barone presenta Mirko Addesa l'evento che rientra nella rassegna palcoscenici è realizzato dalla fondazione Molise Cultura con il sostegno della regione curatrice del festival Rosa Maria Socci tutore delle tradizioni folkloristiche campobassane bene con questa notizia termina il nostro telegiornale vi lascio alle previsioni del tempo subito dopo linea i colleghi dello sport per il nostro TG sportivo a più tardi buon poveriggio